PAUROSO INCIDENTE L'attiva marijuana nel terreno vicino casa, sorpreso e arrestato dai carabinieri, un operaio insospettabile di 24 anni. Nuovo ospedale, il sito migliore è quello di Muraglia. Ecco i risultati dello studio eseguito da Regione Comune. Ricci commenta ora avanti col progetto. Lavori in via Negusanti a Fano per la nuova pista ciclabile. La strada verrà chiusa al traffico per 20 giorni. La rabbia e la preoccupazione dei commercianti per la perdita di parcheggi e clienti. È un'assurdità. Prima dovevamo essere interpellati, quindi noi ci opponiamo ovviamente, agiremmo eventualmente per vie legali. Non siamo disposti a subire questi sopprusi. Asfalti, sicurezza stradale, pubblica illuminazione, il punto sui progetti della giunta Bardieri con i finanziamenti ottenuti dal Comune di Mondolfo. Mostre, conferenze, spettacoli e un premio per i giovani attori dopo Dante Alighieri Fano celebra i 150 anni dalla nascita di Ruggero Ruggeri. Buonasera, apriamo il nostro telegiornale Occhio alla notizia con la tragedia sfiorata sulla strada provinciale a Monte Cerignone, dove questa mattina intorno alle 8 un uomo di 36 anni è residente a Monte Grimano Terme ha perso il controllo della Volkswagen sulla quale viaggiava finendo in un dirupo. L'auto si è ribaltata più volte per una decina di metri per poi arrestarsi sulle quattro ruote. In un primo momento è scattato il codice rosso ed è stata allertata l'eliambulanza, ma che a causa delle condizioni meteo avverse non ha potuto decollare. L'uomo, che si stava recando al lavoro quando è successo il fatto, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Ericcione. Per fortuna se l'è cavata solo con qualche ferita. Sul posto i carabinieri di Carpegna per i rilievi di legge. Invece, in via Flaminia, a Tavernelle di Colli al Metauro, nel pomeriggio intorno alle 15.30, la conducente di una matizza ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del manto stradale scivoloso, ed è finita nella scarpata. Per fortuna la donna del posto ne è uscita illesa, mentre l'auto è stata rimossa grazie all'intervento di un carro attrezzi. Ancora cronaca, i carabinieri della Compagnia di Urbino hanno arrestato un operaio incensurato di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, dopo i servizi di osservazione, i militari sono intervenuti nella sua casa di campagna, situata nel comune di Sasso Corvaro Auditore, e hanno fermato il giovane che coltivava le piante nel terreno adiacente all'abitazione. I carabinieri, comandati da Renato Puglisi, hanno quindi effettuato i controlli e perquisito la casa. Oltre ad una decina di piante di canapa, alte fino a un metro e mezzo, hanno trovato 52 grammi di hashish, mezzo chilo di marihuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi, alcune delle quali già pronte. Inoltre hanno rinvenuto del fertilizzante e dei barattoli con diverse tipologie di marihuana. La droga era destinata alla vallata del Foglia. Ed ora passiamo ai lavori di via Negusanti a Fano, dove verrà realizzata una pista ciclabile, perché i commercianti sono stati avvisati di una chiusura totale della strada per 20 giorni. Un provvedimento, dicono, che andrà a peggiorare i disagi già provocati dall'intervento in atto e c'è anche chi è pronto ad agire per vie regali. Ruspe in azione lungo via Negusanti, la strada che costeggia l'ex caserma Paolini a Fano. Qui, come spiegato nei giorni scorsi dall'assessore alla viabilità Fabio Latonelli, verrà realizzato l'ultimo tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia, che collegherà il quartiere di Sant'Urso al centro storico e alla zona mare. Il progetto prevede anche la riqualificazione del percorso pedonale, con l'aggiunta di iuole, piante e una nuova illuminazione a LED. Quello che però preoccupa i residenti e soprattutto i commercianti è la perdita dei posti auto. In ogni caso, come aveva spiegato l'assessore, verranno mantenuti alcuni stali a lato sud di fronte ai negozi, e previste delle soste con disco orario verso la scuola Corridoni per agevolare la rotazione nell'uso dei parcheggi. I lavori su questo tratto termineranno entro il periodo natalizio e come mostra il cartello con la nuova ordinanza, il divetto di sosta è stato prorogato fino alla fine di novembre, ma agli esercenti sarebbe stata comunicata l'intera chiusura al traffico. Ieri vi hanno comunicato una chiusura della strada? Sì, l'impresa, totale. Questo che cosa comporterà a voi? Non so, anche per lo scarico non c'è più niente, come facciamo noi? C'è solo un passaggino di 30-40 centimetri, perché non ho idea di preciso, però la frutta, la roba, anche tutti i fornitori da noi si lavora con fornitori di roba fresca, e quindi sono parecchi i fornai, i camion grossi, anche per scaricare la merce è un problema. Anche scaricare un pezzo di carne, un coscio che pesa un quintale, da via dei mille, non è una roba tanta salutare. Che cosa ne pensa dei lavori e del nuovo progetto? Allora, il progetto sicuramente sarà un bel progetto, decoro per la città sicuramente, però disagi da un punto di vista dei parcheggi ci saranno, su questo non ci piove, anche perché già sono limitati adesso, e quindi possiamo immaginare quello che sarà prossimamente. È tutto da vedere come andrà, insomma, anche da un punto di vista lavorativo, perché poi tanto i problemi sono quelli. Anche perché il parcheggio della caserma spesso è pieno? Spesso è pieno, allora il mercoledì e sabato è quasi impossibile trovare un posto di parcheggio, perché comunque c'è il mercato e questo limita. Il lunedì si trovano, il lunedì si trovano. Gli altri giorni, diciamo, dopo una certa ora è un po' difficile. In realtà se dovessero rimanere, non so, quei 5-6 parcheggi, perché poi parliamo di parcheggi che si conterranno su un palmo di una mano, l'importante è che vengano comunque messi o con un disco orario limitato per poter dare la possibilità alle persone comunque di scambiarsi. Avete paura di perdere i clienti? Abbiamo paura di abbassare il fatturato, questo sicuramente sì, assolutamente. Tanto d'altra parte veniamo comunque da due anni abbastanza difficili, quindi questa cosa sicuramente creerà dei problemi. Avete già ricevuto la mentele da parte dei vostri clienti? Certo, sì, perché l'impossibilità di raggiungere la farmacia da qui a almeno 20 giorni, come hanno loro supposto, ma sarà difficile rispettare i termini dei lavori, perché piove di continuo e il cantiere si interrompe sempre. Quindi noi quello che abbiamo chiesto è semplicemente di poter lavorare su più punti, senza interrompere la circolazione delle macchine, perché loro hanno garantito un piccolo passaggio pedonale, che ovviamente non garantisce l'arrivo di persone anziane con le stampelle e comunque che fanno fatica ad ambulare, perché loro hanno detto che manterranno comunque dei parcheggi in via Corridoni, ma è troppo lontano, cioè la via deve rimanere aperta. Loro possono comunque lavorare su più punti senza interrompere il servizio, e quindi questo non è quello che chiediamo, non abbiamo fatto richieste particolari, insomma, solo il mantenimento della nostra attività lavorativa, soprattutto questo è un presidio sanitario, noi non lavoriamo per l'interesse nostro, ma per l'interesse pubblico, facciamo tamponi, iniziano le vaccinazioni, i medici devono vaccinare, qui ci sono ambulatori medici, è un'assurdità, prima dovevamo essere interpellati, quindi noi ci opponiamo ovviamente, agiremmo eventualmente per via legali, non siamo disposti a subire questi sopprusi, la pista ciclabile già c'era, la potevano semplicemente rinnovare, fare un'illuminazione, questa sì, il fatto che loro vogliono riqualificare la strada, noi siamo ben contenti, chiediamo, ecco, semplicemente che vengano rispettate promesse sui lavori da eseguire. In questi giorni ci sono stati anche dei controlli da parte delle forze loro? Sì, ci sono stati molti disagi, perché in tanti anni abbiamo sempre chiamato i vigili per poter fare delle verifiche, visto che parcheggiavano tutto il giorno, anche i camion del mercato parcheggiavano per la giornata intera del sabato e del mercoledì, non veniva mai nessuno a controllare. Adesso che ovviamente le macchine magari si appoggiano un minuto per poter andare dai negozianti o dal medico, ci sono tutti i giorni a fare le multe, hanno fatto sfilze di multe suonate anche nell'ambulatorio medico proprio per chiedere chi aveva parcheggiato la macchina, quindi un po' di tolleranza penso nei confronti delle persone che un attimo non devono accedere con questo caos, si potrebbe venire incontro. E noi abbiamo girato questo appello all'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini. Assessore, dunque che cosa risponde alle segnalazioni in merito a Avigliani e Gusanti? Quante sono state le multe elevate? Due sono state elevate poi perché i vigili sono stati chiamati, per cui abbiamo le segnalazioni al telefono registrate. Quando comunque il corpo di polizia viene comunque coinvolto su chiamate specifiche, vanno e hanno comunque registrato solo due situazioni di irregolarità. Chiaramente durante i lavori di via Negusanti, che è comunque una traversa di un'arteria di traffico importante come quella di via Gramsci, la presenza comunque di qualcuno che ordini il traffico è importante. Naturalmente il buonsenso deve essere alla base di tutto ed è quello che comunque sicuramente hanno utilizzato. Bisogna avere un po' di pazienza nei confronti dei lavori che speriamo finiranno nel minor tempo possibile. Le segnalazioni che ci sono arrivate, perché comunque lì transitano molti pedoni, come avete visto c'è l'attraversamento verso la Caserma Polini, verso gli esercizi commerciali da una parte e l'altra di via Gramsci, per cui con un cantiere in corso i pedoni devono comunque essere tutelati rispetto anche a un importante mole di traffico. E questa è la nostra priorità. Chiaramente si dovrà essere comunque tutti ragionevoli, i vigili compresi. E adesso il consueto aggiornamento sul coronavirus. Sono tre i decessi che si sono verificati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Si tratta di due donne e di un uomo di età compresa tra i 70 e i 91 anni. Tra le nuove diagnosi, i positivi riscontrati sono 138, di cui 53 nella provincia di Ancona. A Pesore e Urbino si contano 15 contagi. Negli ospedali della regione ci sono due ricoveri in meno rispetto a ieri, per un totale di 92. Cala leggermente il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre resta invariato quello dei degenti in semi-intensiva. E la situazione delle Marche resta sotto controllo e non si passa in zona gialla. Lo ha riferito oggi l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, il quale ha spiegato che i parametri ministeriali per il cambio di colore prevedono superamento del 10% delle intensive. Noi siamo al 10%, ha precisato, ma siamo in grado di attivare nuovi posti letto. Inoltre è previsto il 15% in area medica. E lì viaggiamo molto al di sotto, sul dato vaccinale. Poi l'assessore ha riferito di circa 1.154.000 vaccinati con la prima dose, cioè l'87,7%, ed è il 79% che ha completato il ciclo. Invece le terze dosi inoculate finora sono più di 51.500. Il sito migliore per l'ospedale di Pesaro è quello di Muraglia. È quanto emerso dalla relazione finale del gruppo tecnico di lavoro, composto da regione e comune. Sebbene, secondo i tecnici, non vi siano sostanziali differenze nei tempi di realizzazione tra i siti di Muraglia e case bruciate, sul piano dei costi quest'ultimo risulta più conveniente. Muraglia però prevale sia nell'ambito della qualità e della funzionalità sanitaria che in quello della sostenibilità ambientale e urbanistica. E il commento del sindaco Matteo Ricci non si è fatto attendere. Adesso che il sito del nuovo ospedale è riconosciuto da tutti su criteri tecnici oggettivi, ha dichiarato avanti sul progetto e sulla realizzazione abbiamo tanto ritardo da recuperare. Da Pesaro a Mondolfo, dove il sindaco Nicola Barbieri ha fatto il punto sui lavori ma anche sui finanziamenti ottenuti per asfaltature, illuminazione pubblica e fermate del bus. Il servizio di Letizia Marchionni. Con il bando pubblico per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, il comune di Mondolfo si è giudicato uno stanziamento di 100.000 euro, un importante finanziamento regionale sulla sicurezza stradale che sarà destinato alla riqualificazione di alcune vie che necessitano di interventi. proseguirà l'attuazione del piano asfaltature da parte dell'amministrazione comunale, ha spiegato il primo cittadino Nicola Barbieri. Andremo ad intervenire su tre strade del territorio comunale che necessitano di criticità, in particolare via San Pasquale a Mondolfo, vicino al cimitero, via Svevo a Marotta Nord e via Gagarina a Piano Marina, vicino alla scuola Raffaello. Quindi interventi importanti che realizzeremo nella prima metà del 2022 come previsto dal bando regionale. Inoltre, sempre sul fronte della sicurezza, il comune di Mondolfo è stato beneficiario di un altro finanziamento di circa 150.000 euro, partecipando al bando regionale relativo agli interventi di miglioramento dell'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale. 150.000 euro con cui riusciremo ad intervenire su 11 fermate e bus del territorio comunale, la maggior parte lungo la via Pergolese e la provinciale cesanense. Quindi interverremo sulle fermate, allargando gli spazi per i pedoni, installando nuove pensiline, quindi interventi importanti per migliorare la sicurezza del territorio. Infine, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, proseguono i lavori su Viale Carducce e Piazza Roma con l'installazione di nuove plafoniere e tecnologie sostenibili. Eravamo già intervenuti quest'estate nella zona mare, in particolare i giardini 11 eroine nel lungomare di Marotta Nord. Ora gli interventi sono su Viale Carducci, nel tratto dall'isola pedonale fino a Piazza Roma e poi interverremo anche sulla riqualificazione dell'illuminazione di Piazza Roma. Quindi un impianto di illuminazione pubblica che era obsoleto da tanti anni e che andremo quindi a riqualificare per migliorare la sicurezza dei cittadini, ridurre l'inquinamento luminoso e anche migliorare il risparmio energetico. Un tamponamento si è verificato oggi alle 12.30 in via Roma Fanno all'altezza di via Togliatti, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e una Citroen condotta da un 27enne attamponato, una Volkswagen Touran guidata da un fanese di 63 anni. Entrambi i conducenti sono finiti al pronto soccorso, sul posto e la polizia locale per i rilievi di legge. In occasione della giornata mondiale del diabete prevista per domenica 14 novembre, l'associazione Fand di Fanno ha organizzato, in collaborazione con Marche Nord, tre appuntamenti dedicati allo screening glicemico gratuito. La prima tappa si è svolta domenica scorsa al centro commerciale Fanno Center, dove hanno partecipato circa 250 persone, mentre le prossime sono previste il 14 all'hotel Flaminio a Pesaro, dalle 9 alle ore 12.30 e poi a Urbino il 21 novembre, ma il luogo preciso è ancora da stabilire. Cambiamo argomento, dopo l'abete già posizionato in Piazza del Popolo a Pesaro, ora si pensa alle prossime iniziative legate al Natale. Protagonista indiscusso sarà un maxiscivolo di ghiaccio che verrà posizionato in via Curiel. Angelica Panzieri ha raccolto il parere dei commercianti. Un'attrazione da scommessa che incuriosisce cittadini e commercianti. Resta solo da vedere come sarà, perché il Comune, per il format natalizio Pesaro nel cuore, ha già annunciato la novità di quest'anno. In via Curiel a due passi, da Piazzale Lazzarini e dunque dal Teatro Rossini, sarà posizionato un maxiscivolo di ghiaccio che dovrà occupare la facciata laterale che ospita Galleria Roma. Tra i commercianti c'è chi crede che l'attrazione contribuirà a portare il passeggio verso la stessa via e dunque anche in Piazzale Lazzarini, dove saranno allestiti quest'anno per la prima volta, i mercatini natalizi. E chi invece resta più dubbioso, ritenendo che il via vai ai negozi per gli acquisti possa passare in qualche modo in secondo piano. È una sorpresa perché comunque non sappiamo che tanto beneficio si può dare. A me soprattutto mi togli la visuale su via Branca. Magari si mettesse anche qualcosa da indicare che noi siamo qui, sarebbe anche una buona idea, per fare capire alle persone che comunque qui ci sono dei negozi. Sono abbastanza contenta perché la speranza mia è quella che le persone non rimangono solo concentrate piazza, via Branca, Corso, ma riescono anche a conoscere le altre vie. Quindi se questo scivolo ci porta gente, inizia a muoversi qualcosa di più sotto il Natale, quindi speriamo che sia una buona soluzione. L'abbiamo appresa con estrema gioia perché finalmente dopo questi due anni di chiusure la vediamo e la viviamo come una nuova rinascita e pertanto accogliamo con gioia questa cosa e non vediamo l'ora di rivedere queste piazze rianimate e di festeggiare tutti insieme. Finalmente iniziative non più concentrate solo in Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, infatti, perché anche Piazza Lazzarini e le vie limitrofei avevano bisogno di questa rinascita. Speriamo che sia altrettanto positiva la cosa. La via è un po' piccolina, però dai, visto che hanno già levato tutti i lampioni, sposteranno le fioriere per metterlo tutto verso un lato della via. Speriamo bene, sicuramente porterà gente, dai, una novità. Per ora gli addetti ai lavori del Comune hanno provveduto a smontare i pali dell'illuminazione nella stessa via, dalla quale dovranno essere poi eliminate anche le fioriere. Ovviamente l'arrivo dell'attrazione per il divertimento dedicato ai più piccoli comporterà inevitabilmente una modifica alla viabilità e all'ingresso alla via. E intanto l'attesa cresce. Lo scorso fine settimana si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo dell'Associazione di Protezione Civile FAA di Bruno. Oltre alle conferme di Enrico Vitali, Nicola Rovelli e Carmen Patrignanelli, è stato dato il benvenuto a Giulia Aguzzi e Cristiano Tomassini. Ripartiamo con maggiore entusiasmo, hanno dichiarato dal direttivo, e con la volontà di crescere come gruppo, per dare, come facciamo da anni, supporto alla nostra comunità. Dopo Fano per Dante, la città vuole rendere omaggio a Ruggero Ruggeri. A 150 anni dalla nascita del noto attore, nato proprio a Fano, viene proposto un ricco programma di eventi e di iniziative. Sentiamo. Come ho detto, continuiamo in questo percorso particolare. Molto particolare. Mostre, conferenze, spettacoli, premi e laboratori. Si intitola Fano con Ruggero Ruggeri, attore ideale di Pirandello e del progetto che mette di nuovo in sinergia il Comune di Fano, la Fondazione Carifano, la BCC, Fano Rocca Malatestiana e la Fondazione Teatro della Fortuna. L'obiettivo congiunto è quello di valorizzare la cultura promuovendo una strategia che sia capace di dare risalto alla cultura e alla storia della città, mediante una celebrazione che non si esaurisce nell'anniversario del 14 novembre per i 150 anni dalla nascita di Ruggeri, ma si snoderà fino a giugno 2022 con tante iniziative, eventi ed attività. Una città si misura anche con la sua identità, che è fatta non solo dalle testimonianze archeologiche o monumentali, ma anche dalle personalità, da quei figli illustri che in qualche modo l'hanno fatta vivere, hanno lasciato un segno, hanno anche promosso la nostra città. Ruggero Ruggero è uno di questi, con un percorso straordinario, artistico-culturale, di respiro non solo nazionale, ma internazionale e direi mondiale, arrivando fino al Sud America. È anche un'occasione per portare al centro la cultura teatrale, ma è anche un investimento, contaminando i giovani, coinvolgendola, che è un'iniziativa rivolta a loro, soprattutto una città che si rispetti, celebra i propri figli illustri, e Fano è una di queste. Dopo il successo ottenuto con Fano per Dante, venerdì partirà il nuovo progetto dedicato a Ruggeri, una delle maggiori personalità del teatro italiano del XX secolo. Direttore ha parlato anche di un connubio con Luigi Pirandello, è così? Forse è la chiave nazionale, internazionale, che ci interessa per valorizzare Ruggero Ruggeri. E questo connubio, naturalmente, parte dal premio Nobel per la letteratura e il teatro, che è appunto Luigi Pirandello. Ed è per questo che l'intenzione del progetto, nella sua fase proprio di espansione, articolazione, perché parte adesso, ma avrà nel mese di maggio, la somma di tutta una produzione da parte di 50 protagonisti, tutti under 30. Ecco, il progetto Ruggeri Pirandello sarà fatto dai giovani. La scuola diventa fondamentale nel progetto perché si incontreranno gli studenti diciottenni, gli studenti delle Accademie d'Italia e quelle europee, proprio per dare valenza ad una personalità come quella di Ruggeri Ruggeri, che deve, in qualche modo, dare il segno di una vocazione, di un'artisticità, di qualcosa che è in movimento, non solo guardare indietro, ma appunto con i giovani guardare in avanti. L'iniziativa, ha proseguito Pugliani, si svolgeranno in spazi diversi, come alla Rocca Malatestiana, nella Casa Natale di Ruggeri e a teatro. Non a caso la conferenza stampa di presentazione è avvenuta proprio nel foyer del teatro e il primo appuntamento è venerdì. Venerdì alle 18, proprio nel foyer Ruggeri. Ruggeri, inaugurazione della mostra di una scelta di fotografie di un corpus di 200 che sono appartenuti proprio a Ruggero Ruggeri. 32 foto che segneranno non solo il percorso teatrale, ma anche i rapporti che ha avuto. Poi domenica, pomeriggio, che è proprio il giorno del suo compleanno, grande spettacolo al Teatro della Fortuna, alle 17, con Briganti e Cecilia D'Amico, con una persona che Giannangeli ci farà anche qui, oltre le letture, ci racconterà alcuni episodi importanti. Poi il 21, la mostra che si apre a Casa Natale, a Palazzo Braccio e Pagani, e poi cominciamo a lavorare in questo percorso che penso sia anche particolare e curioso, ma che possa creare tanta attenzione. E poi per noi è fondamentale tornare a teatro. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa a cura di Massimo Fughetti. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani.